Non a tutti i bambini, la neve porta allegria. Per i bambini ucraini significa freddo, fame, buio e paura. Hanno bisogno di un aiuto per superare l'inverno. Servono medicine, cibo e protezione dal freddo. Possiamo fare qualcosa subito. Dona ora. Chiama da telefono fisso o manda un sms al 45520. Puoi donare anche su mediafrenz.it. Aiutiamo i bambini ucraini. È un'iniziativa MediaFrenz con Intersos e Soleterre. Grazie.